Buongiorno e bentrovati con Mattino 6, la nostra rassegna stampa di TV6 con cui ripercorriamo i fatti principali della giornata di ieri attraverso i quotidiani locali e quelli nazionali, mercoledì 11 settembre, dunque anche un giorno triste di anniversario degli attentati che ci furono a New York nel 2001. Ma andiamo a vedere la rassegna delle prime pagine dei quotidiani locali iniziando dalle prime pagine del centro nelle quattro edizioni e partendo da quella di Pescara. Allarme bomba, si stringe il cerchio a Pescara, caos alla stazione, la telefonata da Porta Nuova si cerca nei filmati. E poi sotto la testata, argomenti che poi troveremo diffusamente trattati nelle testate nazionali con la fiducia incassata dal Conte Bis al Senato nella giornata di ieri. Il governo Conte passa al Senato, fiducia all'esecutivo 169 sì, 133 no e il premier dice a Salvini sei arrogante. E poi ancora Bruxelles Gentiloni nella squadra di Ursula, Ursula von der Leyen, va all'economia. E poi tornando alla nostra regione, maltempo indennizzi a 630 aziende agricole. In regione arriva la manager Morgante. E poi ancora scendiamo a centro pagina, di spalla, l'intervista al sindaco di Montesilvano De Martinis. Ecco come cambierò Montesilvano. E poi ancora a centro pagina, la fotonotizia Federica, l'abruzzese amica di Greta, lottiamo per Madre Terra, la 24enne marsicana a New York per il vertice ONU sul clima. E poi altri richiami, si parla di sanità, sempre a Pescara, ospedale, tumori al polmone. Esami in tempi più brevi. La vittima è di Loreto, investito in bici a Montesilvano, anziano e grave. E poi agente aggredito in carcere da un ergastolano ed è pescarese. L'aggressione è avvenuta nel carcere di Sulmona. E poi a fondo pagina per il calcio di Serie B, Pescara, c'è un tabù da sfatare. Domenica la sfida a Cosenza, 21 anni fa, l'ultimo colpo esterno. Un paio di richiami sempre a fondo pagina. Castel di Sangro, l'Under 21 di Laga, 5-0, festa azzurra al Patini, battuto il Lussemburgo. In gol anche il centravanti del Pescara, Marco Tuminello. Era la prima gara per le azzurrini per le qualificazioni all'europeo di categoria. E poi l'intervista allo chef Heinz Beck, il re degli chef. L'Abruzzo è magnifico, dice. E poi ancora l'edizione di Chieti del Centro Palazzi a rischio protesta in piazza. Incontro pubblico a Santa Maria. I residenti dicono 70 famiglie via da casa. E poi ancora di Spalla, Guardia Grele, il caso. Niente fedeli. Nella chiesa salta la messa del vice parroco Don Giuseppe, proprio per mancanza di fedeli. E poi ancora i richiami a Ortona. Muore a quattro anni dopo tre mesi di cure a Roma. A Vasto, schianto in A14. Addio al dirigente della Fox Petroli. A Lanciano, sempre la cronaca, blitz antidroga. Quattro arresti e sette indagati. Poi in taglio basso, calcio di serie D. Vastese Palumbo. Ore decisive, i biancorossi stengono per il centrocampista. Oggi la firma tra i direttanti. Il mercato chiude più tardi. Chiuderà in particolare dopodomani alle ore 19. Quindi c'è ancora tempo per fare operazioni. Il Centro edizione di Teramo. L'apertura dedicata alla cronaca. Violenza sessuale medico indagato a Teramo. Avrebbe abusato di una paziente con un ritardo mentale. Poi di Spalla, sempre a Teramo, il Nobel Rubbia. Testimone al processo sull'acqua. Altri richiami a Teramo. Insulta la suocera su Facebook. Condannato a Martinsicuro. L'imam arrestato. Non centro col terrorismo. E poi tornando a Teramo, Piazza Dante avrà meno parcheggi. In basso, Serie C. Speranza. Addio al Teramo. Il difensore andrà a Pineto dopo otto anni in biancorosso. Andiamo avanti e siamo sull'edizione aquilana del Centro. L'apertura sisma. Nuove idee dai paesi amici all'Aquila. Possibili sviluppi futuri dall'incontro con gli ambasciatori. Di Spalla, sempre all'Aquila. Scuole sicure. Genitori e docenti al Ministero. Frezza è stata convocata al Ministero dell'Istruzione. E poi ancora, sempre nei richiami in prima pagina, l'Aquila, la giunta indica tre diverse sedi per il Comune. Ad Avezzano, Natale sfida De Angelis. Si ricandidi. E poi a Sulmona, Democratici. Si riaccende lo scontro. Andiamo in taglio basso. L'Under 21 di Laga. Festa per 5.000. Gli azzurini brillano a Castel di Sangro, Lussemburgo, Travolto. Proseguiamo. E ora vediamo la prima del messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura bus. La scuola inizia nel caos. Regione. Il PD accusa trasporti con mezzi obsoleti. Tagliato un milione di chilometri. La sicurezza è a rischio. Chiediamo controlli alle prefetture e alla motorizzazione civile. E poi ancora, sempre a Pescara, Fondazione Paolo VI scoppia il caso. Andiamo ora sotto la testata. Vediamo questi tre richiami. L'Aquila Chiesa Gioiello di San Pietro ha copito restauro quasi completo. A Teramo invece piove nell'ospedale, scatta l'emergenza, sale operatorie. Subito i lavori. E poi il falso allarme di due giorni fa. Bombe nucleari. La verità dalle spycam di Porta Nuova. A fare la telefonata è stato un uomo con un accento dell'Europa dell'Est. Le immagini saranno incrociate con i tabulati telefonici della zona. Andiamo di spalla. Sottosegretari D'Alfonso e Bacca in poll per l'incarico. Le scelte del governo Contebis entro poche ore. Tutte le chance. In taglio medio la fotonotizia Italia Super va in rete Tuminello. Festa azzurra a Castel di Sangro. E poi la cronaca droga nell'ospizio. Arrestati altri cinque indagati. A Lanciano scoperto vasto giro di spaccio. Spunta anche una talpa in procura. In taglio basso in Marsica il ritorno dell'Orso. Strage di Galline. Andiamo ora sulla prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura dedicata al progetto svelato appunto dalla città. Ecco la nuova gammarana. Il progetto del gruppo Gabrielli per riqualificare l'ex Villeroye Boc. Andiamo sotto la testata. Ci sono una serie di richiami. L'inchiesta sul terrorismo interrogato in carcere l'ex imam di Martinsicuro. A Roseto degli Abruzzi quasi finiti i nuovi argini del Tordino. A Giulianova uffici comunali da riorganizzare con criterio. E poi c'è l'intervista ad Alessia Cognitti. Il ruzzo è sulla strada del risanamento. Le parole del capogruppo in consiglio regionale della Lega Pietro Quaresimale. Ospedale nuovo, un'occasione da non perdere per Teramo. Andiamo in taglio basso. Trasporto pubblico, corse del bus. Teramo prova a cambiare. E poi sul fronte Teramo calcio. Due turni a cianci dal giudice sportivo. Salta, cavese e rende. Lasciamo i quotidiani locali. Ora l'ampia parentesi dedicata alle testate nazionali. Chiaramente grande spazio alla fiducia al Senato per il governo Conte-Bis nelle varie letture e nei vari commenti forniti dalle diverse testate. Iniziamo dal Corriere della Sera. Sì, al governo si tratta con l'Unione Europea. Fiducia in Senato con 169 voti favore. Conte a Salvini, arrogante e chi voleva pieni poteri. Il sostegno di Liliana Segre. Oggi il Premier incontra von der Leyen per chiedere flessibilità. Nella maggioranza si aprono tensioni sui migranti. Andiamo poi di spalla l'addio a Robert Frank nei suoi scatti le verità segrete dell'America. E a proposito di America c'è questo caso che impalza nelle ultime ore. Trump su Twitter via Bolton. Ma il consigliere dice ho deciso io. Casa Bianca senza pace lascia anche l'uomo della sicurezza nazionale. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco l'apertura. Conte ci prova con l'Europa. Soldi e migranti. Dopo la fiducia del Senato il Premier a Bruxelles per trattare con Ursula flessibilità e accoglienze. Poi una serie di richiami esteri. E non solo. Di Maio vuole fare della Farnesina un ministero sull'immigrazione. E poi corte dei conti. Autostrade alto là alle concessioni. La gronda regala 10 miliardi ad Atlantia. Delitto cercello. L'arma nei guai. C'erano contatti tra il pusher e un appuntato. Ora la prima pagina di Repubblica che apre così. Qui si rifà l'Europa e un po' anche l'Italia. La presidente dell'Unione Europea von der Leyen nomina la sua squadra e rafforza i dicasteri per l'ambiente e l'agenda digitale. Il Conte Bissi incassa anche la fiducia del Senato. Altro scontro con Salvini. Liliana Segre dice basta odio. Chi salva una vita salva il mondo. E Gentiloni commissario all'economia ma è una vittoria a metà. Scendiamo in taglio medio. Fatto fuori con un tweet. Trump licenzia il falco di guerra. Cacciato Bolton consigliere per la sicurezza. In disaccordo su Iran, Corea e Afghanistan. La prima pagina del manifesto. Ecco qui l'apertura a doppio mandato. Nasce il governo giallorosso dal Senato via libera al Conte Bissi con 169 voti favorevoli. Due in meno dell'esecutivo gialloverde. Scontro tra Salvini e il Premier. Mentre a Bruxelles von der Leyen nomina Gentiloni agli affari economici con il contrapeso del falco Dombrovskis. Sotto la testata l'ultima di Netanyahu a una settimana dalle elezioni in Israele. Votatemi e annetterò le colonie. La prima pagina del messaggero. Ecco l'apertura. Fiducia fredda. Conte alla prova dell'Unione Europea. Via libera al Senato. 169 sì e 133 no. 5 astenuti. Due in meno dei gialloverdi. Litte Premier Salvini. Oggi missione su manovre emigranti. Gentiloni, commissario europeo. Misure espansive. E poi sotto la testata il bilancio del calciomercato fatto dal DS della Roma Petrachi. Acquisti furbi per fare gruppo. E poi questi ultimi sviluppi sul fronte Michael Schumacher. Terapia cellulare. Schumacher cura sperimentale a Parigi. Speranze dalle staminali. Andiamo in taglio medio. Trump licenzia Bolton con un tweet. Il consigliere per la sicurezza. Mi sono dimesso troppi dissidi. E poi la cronaca. Scuola senza prof in cattedra. La carica dei neolaureati. Un esercito di 20.000 nuovi insegnanti al fianco dei supplenti. Che non bastano più. Andiamo ora sulla prima del giornale. Ecco l'apertura. Ieri la fiducia al Senato. Conte già commissariato. Il governo parte subito. La Unione Europea batte cassa. Gentiloni affiancato da un falco del rigore. Stop al quantitavi easing di Draghi. E solite promesse sull'immigrazione. Prove poi di centrodestra riunito. Salvini vedrò Berlusconi. E poi dopo il botta e risposta in aula il derby sulla dignità dei due nuovi arci nemici. Sono appunto l'ex ministro dell'interno Salvini e il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Andiamo un po' in taglio medio. Allarme immigrazione. Prima nave. Primo scontro. Il PD vuole riaprire i porti. Andiamo sulla prima di Libero. L'apertura. Il premier ottiene la fiducia dai comunisti. L'unto dei signori. Conte ha fatto di tutto per compiacere a progressisti e pennerosse. Senza accorgersi che adesso la sinistra lo risuccherà e lo renderà innocuo. Gingillo dell'apparato buono per le parate. E poi in taglio medio. Queste due foto. Salvini all'opposizione e ritorna re della scena. Matteo che schifezza i giallorossi. E poi Gentiloni si improvvisa perfino economista. Commissario UE privo di competenze. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina del mattino. Conte 2 maggioranza più stretta al Senato. 169 favorevoli. Due in meno dei gialloverdi. Crescono i contrari. Duello. Premier Salvini. Gentiloni. Commissario UE per l'economia. Ma sarà affiancato dal falco del rigore. Dombrovskis. Andiamo poi in taglio medio. Ecco la fotonotizia. Con il calcio. Soiorente il bello. Vi regalo il mio cuore. E della punzecchia Ancelotti. Gioca chi è in forma. E poi tornando alla cronaca. Killer del vigilantes. Buffera sui giudici per la festa premio. Il capo della polizia. Capisco la rabbia dei familiari. Il figlio. Una vergogna. Probabile. L'indagine interna. La prima pagina della verità. Ecco l'apertura. Gentiloni. Commissario. Commissariato. Schiaffo. A Mattarella e Conte. L'Europa ci ha già incastrato. Fiducia a Dem. Movimento 5 Stelle. Via la squadra di Ursula von der Leyen. All'ex premier. La delega all'economia UE. Senza vicepresidenza. Il solito Dombrovskis avrà ancora più potere. E l'ultima parola su tutto. La nuova presidente invoca rigore. L'Italia sa cosa ci aspettiamo. Altro che cambiare il patto di stabilità. Come sperava di fare il Colle. E poi la fotonotizia al centro. Tra i 169 sì c'è pure Monti. Il governo senza vergogna al Senato è appeso a un filo. Andiamo ora sulla prima del sole 24 ore. Ecco l'apertura. Italia-Francia al Via il Nuovo Corso. Macron il 18 da Conte. La politica sui migranti e i dossier economici al centro dell'incontro. Sul tavolo il trattato del Quirinale 2017. Sospeso per la crisi sui gilet gialli. Il presidente francese sarà il primo leader europeo a incontrare il premier. E poi la fotonotizia iterchimica è più resistente. Dura il doppio. A Milano prove tecniche di asfalto al grafene. E poi ancora Europa. Gentiloni all'economia. Dombrovskis si rafforza come vice. Ed ecco la nuova commissione. L'ex premier sì a regole di bilancio. Ma servono nuove politiche espansive. Andiamo avanti. Siamo sulla prima del tempo. Che apre così. Perde già a pezzi il conte Mannaro. Solo 169 voti in Senato. Due in meno del governo geloverde. Per il nuovo esecutivo. Il premier fa la faccia feroce. Ancora una volta attacca Salvini. Ma non scalda il PD. E poi in taglio medio. Gentiloni all'economia. Ma deleghe dimezzate. Se finisco tutti i compiti. Poi posso giocare un po' con le deleghe. Tutto questo nel tempo di Oscio. E poi di spalla. Nasce il conte Bis. Attenti a Roberto Calderoli. La Lega prepara le trappole in Parlamento. Scendiamo ancora. E nel mondo di mezzo. Tutta la verità su Diabolic. I PM a caccia di legami. Tra Piscitelli, Gaudenzi. E un traffico d'oro svelato in mafia capitale. La prima della stampa. Migranti. Patto europeo di Conte. Sbarco in porti sicuri. E ricollocazione. C'è l'intesa con Francia e Germania. Il 23 settembre la firma. Gentiloni commissario UE all'economia. L'Italia non borbotti più. Von der Leyen. Adesso le riforme. Il nuovo governo ottiene la fiducia. Anche dal Senato. 169 sì. Salvini. Traditore. Traditori. Il premier. Arrogante. E poi ancora la foto. Notizia a centro pagina. Con la sua Yamaha a Tavuglia. Passerella. Di Valentino. Proseguiamo. con la prima del secolo punto hit. Che apre così il dittatorello. Aspirazione pericolosa per Giuseppe Conte. Premier senza un solo voto. E campione di trasformismo. I richiami a fondo pagina. Meloni contro Berlusconi. Atteggiamento padronale. Il premier è davvero mite. Opposizioni nel mirino. Il Conte bis perde due pezzi. Sono Paragone e Ricchetti. Andiamo avanti. Sulla prossima testata. Che è il secolo XIX. Che apre così. Un piano. Per redistribuire i migranti. Intesa fra Italia. Francia e Germania. Il protocollo verrà firmato. Il 23 settembre a Malta. Che sarà coinvolta. Nell'operazione salvataggi. Entro un mese. Dallo sbarco. Sulle nostre coste. I profughi dovranno essere. Ricollocati in Europa. Gentiloni. Nominato commissario. Gli affari economici. Il premier Conte. Incasta la fiducia. Anche al senato. E chiudiamo con la prima pagina dell'avvenire. L'apertura. Doppio cambio di passo. Ursula von der Leyen. Presenta la nuova commissione. Promette la revisione delle regole sull'asilo. Il governo tiene la fiducia anche al senato. Con 169 sì. Bagarre in aula. Stop sulla legge elettorale. Più donne e giovani nell'esecutivo europeo. Con gentiloni agli affari economici. La ministra del lavoro. Quota 100 rimane. Scendiamo. A centropagina. Il leader delle FARC. Pace a ogni costo. In Colombia rischio di nuovi scontri. Poi il ritorno dall'Africa. Il Papa non teme scismi. E prego non ci siano sui temi sociali. Dico le stesse cose di Giovanni Paolo II. Lasciamo i quotidiani nazionali. Andiamo sul centro. E quindi torniamo sulle testate locali. Subito pagina 4. L'argomento è quello dell'agricoltura. Mal tempo. Indennizzi per 630 aziende. La giunta Marsilio approva la delibera per il risarcimento dei danni provocati dalle nevicate del 2017. Stanziati 1,5 milioni. E poi di spalla. Nucleo industriale. Consorzio Chieti. Pescara. Nominati i nuovi liquidatori. Taglio basso. L'Abruzzo ritenta la carta dei corridoi UE. L'esecutivo approva la proposta di inserimento nella rete baltico-adriatica e in quella mediterranea. Andiamo nella pagina successiva. Regione. Arriva la manager Morgante. Il presidente Marsilio presenta il nuovo direttore generale, 57 anni, originaria di Chieti. È un curriculum importante. Chi è? Da TAV-SPA al gruppo Ferrovie e Trenitalia. Questi alcuni degli incarichi più prestigiosi per la manager Barbara Morgante, che appunto ieri è stata presentata alla presenza del presidente della regione Marco Marsilio. Allora ascoltiamo Barbara Morgante e Marco Marsilio. La scelta dettata dal cuore ha detto da che cosa? Anche dal cuore e come ho detto anche prima dalla sete di conoscenza. Io mi sono occupata prevalentemente, comunque negli ultimi anni professionali, di trasporti. in una regione ancorché piccola si spazia dall'agricoltura alla sanità a tutti i settori, evidentemente in cui non ho avuto esperienze professionali e sui quali ho anche meno competenza, non ho difficoltà a dichiararlo. e quindi questa possibilità di uno spettro molto ampio, diversificato sia come tipi di business, di settori, ma anche di problematiche, mi ha incuriosito e siccome non voglio fermarmi. Nell'apprendimento, nonostante la mia età grafica, ho deciso di investire perché è un investimento, soprattutto dal punto di vista economico, vi assicuro che è un investimento che sto facendo per la mia terra e anche per me. Di fatto sì, questa è la squadra, adesso abbiamo il top management schienato in campo, è un'ottima squadra, mi fa piacere che anche la dottoressa Morgante che di top management, se ne intende, abbia valutato in maniera positiva il personale che ha trovato, i dirigenti con cui si troverà a collaborare e questo percorso però di qualificazione e di crescita intendiamo farlo per tutta la macchina regionale. La scelta di Barbara Morgante che è un'esterna non mortifica le professionalità interne, credo che sia anzi però per le professionalità interne sia anzi un'occasione di crescita e di valorizzazione professionale, mettersi a collaborare e poter crescere sotto la guida di una persona che ha un'esperienza così importante e così profonda. C'è una mancanza di competitività della nostra regione, poi non ci si può lamentare se magari a certi livelli si diventa meno competitivi di altre regioni, corro l'occasione sulla sanità per ricordare che la regione Abruzzo era l'unica regione italiana da molti anni a non aver adeguato i compensi rispetto ai contenuti di un decreto ministeriale che è fissa un massimo a 155, noi li abbiamo portati a 149, quindi comunque al di sotto del massimo, al di sotto di quasi tutte le altre regioni, solo la Calabria da meno dell'Abruzzo, le altre più o meno pari o di più della nostra regione. Sempre sul centro, assunzioni nelle Asle, tutti i dubbi della CGL, Ragneri non si capisce se servono per sbloccare il turnover e il ministero tace sul pieno di riordino, a fondo pagina, trasporto locale, il PD attacca e caos, allarme di Pepe, Paolucci e Blasioli in ritardo le gare per i servizi TPL, si rischia la perdita di fondi. E ora la pagina Abruzzo, l'argomento è quello del turismo, la vetrina internazionale, la regione scalda i motori aspettando l'Expo a Dubai. Assessore Mauro Febo annuncia la partecipazione dell'Abruzzo all'evento, una grande occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio. E poi in basso clima l'Abruzzo studia un piano locale, riunione tra l'assessore Campitelli e i partner del progetto europeo Joint Sec-Up per affrontare i rischi. Andiamo avanti, economia De Cecco, semestre d'oro in Italia, crescita record nella speciale classifica Nielsen Top 75 Manufacturer e primo nel food per incremento del fatturato. Famiglie consumatrici a quota 10,9 milioni. Poi dove va il fisco targato Conte e Bis, riforma IRPEF superanagrafe dei conti correnti delle persone fisiche, tasse locali, previsti la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori e il ripristino del pacchetto Industria 4.0. Grande assente sarà la flat tax, rischiano l'abrogazione anche il regime forfettario e la mini-IRES. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Pescara con la vicenda dell'allarme bomba, allarme bomba alla stazione Caccia al responsabile nei filmati. La telefonata anonima che annunciava ai quattro ordini è partita da una cabina di via Conte di Ruvo. La Digos sta acquisendo le immagini della videosorveglianza. Si cerca un italiano di mezza età. Proseguiamo e parliamo in questo caso di sanità. Distretto Pescara Nord, raggi X, nuovo apparecchio, esami in tempi più brevi. Era bloccato da sei anni, diegiglio. Abbatteremo le liste di attesa del 30%. Il macchinario oggetto di una lunga battaglia del Movimento 5 Stelle entrerà in funzione tra un mese all'ex Baiocchi e consentirà test all'apparato scheletrico e toracico. All'ospedale civile a ottobre partirà anche il servizio di radioterapia per i pazienti che hanno problemi al collo dell'utero, alla prostata e al colon. Avanti ancora, sempre sul fronte della sanità, tumore al polmone, nasce l'ambulatorio specializzato. Percorso privilegiato per consentire al paziente visite ed esami. Entro cinque giorni la struttura, formata da un team di specialisti, istituita in chirurgia toracica. Avanti con la pagina successiva e siamo alla cronaca. Per seguita, la ex dopo la condanna ha arrestato un meccanico pescarese. Nuovo caso di stalking a distanza di una settimana dal tentato omicidio di Francavilla per gelosia. Il quarantenne non si rassegnava alla fine della relazione. La donna pedinata e minacciata anche al lavoro. E poi ancora Heinz Beck, il noto chef, dice Abruzzo, una terra bellissima, lo chef bavarese pluristellato stasera al Caffè Le Paiotte. Ai giovani dico seguite la vostra passione e lavorerete felici di spalla. Beach golf contro il bullismo, spettacolo e trionfo francese. Tutto questo presso lo stabilimento La Prora a Pescara. Funerali a Città Sant'Angelo. Folla di ragazzi per l'ultimo saluto alla donna morta nell'incidente. Oltre 200 persone hanno riempito la chiesa di Sant'Agostino per l'addio a Paola De Sanctis. Il marito è ancora ricoverato in ospedale dopo lo scontro fatale in moto domenica scorsa a Silvi. Ora le pagine di Montesilvano con l'intervista al sindaco Ottavio De Martinis dopo i primi 100 giorni da sindaco. Dopo Giova, dice De Martinis, costruiamo la nuova città. Il successo del maxiconcerto dell'estate dà più forza al programma della Giunta. Giusto puntare sui grandi eventi. Apriamo il dibattito sulla tassa di soggiorno. Posso contare su una squadra unita e affiatata con assessori, consiglieri e tecnici che a volte devono frenare per quanto entusiasmo hanno nel fare proposte. Dice De Martinis, il borgo del Colle e il nostro fioralocchiello non ci interessa una movida fatta di caos e ubriacature ma di cultura e bellezza. Poi alcuni punti trattati nella lunga intervista. Tassa di soggiorno per attrarre gli eventi dobbiamo investire su logistica e strutture. Riviera e Pineta, riqualificare la riviera e farne un corpo unico con la Pineta. Sicurezza e territorio. Abbiamo solo 25 vigili urbani ma il territorio è ben controllato. Il fronte, l'argomento, grande pescara, chiederemo al Presidente della Regione di cambiare subito la legge. De Martinis si è più volte schierato per il no al progetto. E poi il nuovo piano regolatore è già pronto. Tuteleremo il suolo con aree verdi e piste ciclabili. Proseguiamo, siamo sempre a Montesimano. In questo caso la cronaca ha investito in bicicletta grave un settantenne. L'uomo di Loretto Prutini è stato travolto da un'auto condotta da un 82enne. La patente è stata ritirata. Proseguiamo, siamo a Francavilla al mare. Villanesi consegnati i lavori per la sistemazione della frana. L'opera attesa da sei anni dai residenti del quartiere collinare di Francavilla. Colpito dall'alluvione avranno la durata di sei mesi. Serviranno alla messa in sicurezza e al rifacimento del manto stradale. Pagati dopo due anni i gettoni di presenza. In questo caso siamo a penne. Gettoni di presenza per le commissioni liquidate alla somma di 1.421 euro a nove consiglieri per risparmiare il comune. Aveva anche limitato le riunioni. Siamo ora alle pagine di Chieti e provincia. Paura a Santa Maria. Palazzo a rischio. La protesta va in piazza. Ovviamente a Chieti. Stasera assemblea pubblica nel quartiere. I residenti già 70 famiglie costrette a evacuare. Vogliamo risposte dal comune. Di spalla polemica sul dopo demolizione. Snobbata offerta milionaria. Trinchese parlano due inquilini. E poi in basso rientro in aula a scuola di Brecciarola. Nuovi lavori. Giampietro e Di Biase faremo interventi di tamponatura nei muri dei muri. Siamo qui in provincia di Chieti a Guardia Grele. In chiesa non ci sono fedeli. Salta la messa. Il vicario Don Giuseppe è la prima volta in 43 anni. In serata c'era la funzione per il saluto a Don Nicola. Trasferito a Chieti. Poi droga nel Frentano. Presi gli spacciatori. A Lanciano stupefacenti nella casa di riposo. Quattro arresti e sette indagati. C'è anche un cancelliere della procura. A Ortona muore a quattro anni dopo tre mesi di cure. Francesco aveva avuto un malore a giugno trasferito d'urgenza al Gemelli. Era stato operato. Oggi è l'addio ed è lutto nel rione di Fonte Grande. Poi in taglio medio il dirigente della Fox Petroli muore in A14. Fatale un incidente stradale per Berloni. 37 anni. Vastese d'adozione. L'imprenditoria è in lutto. Andiamo sulle pagine di Teramo. L'inchiesta. Abusi su una paziente medico indagato. Il professionista accusato di violenza sessuale su una donna con ritardo mentale. Ti faccio regalini da 5 o 10 euro. Poi le accuse della procura. Gli episodi sarebbero avvenuti nell'ambulatorio e le avrebbe anche mandato su Whatsapp delle foto di lui nudo. In taglio medio insulta la suocera su Facebook condannato. Tre mesi a un terramano accusato di aver diffamato sui social la madre della sua ex compagna. E poi ancora siamo a Silvi. Eseguiti i lavori nelle scuole. Il comune siamo pronti. Effettuati diversi interventi dalla tinteggiatura al controllo delle strutture. L'assessore Di Giovanni fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità. Andiamo a chiudere con le pagine dell'Aquila. Il decennale. Il ricordo delle vittime dai paesi nuovi. Pardon. Dai paesi amici nuovi progetti per la città. A Palazzo Pica Alfieri gli ambasciatori degli stati protagonisti della gara di solidarietà a sostegno della ricostruzione. E poi ancora il sindaco Biondi, il vostro aiuto, non ci ha fatto sentire soli in questa tragedia. In taglio basso con la lista Nozze sono arrivati 33 milioni. E dalla Francia spuntano ipotesi di investimento da parte del mondo produttivo e imprenditoriale. Il personaggio Federica L'ambientalista Marsicana, amica di Greta, lotto per madre terra. La 24enne a New York per il vertice a uno dei giovani sul clima sarà l'unica italiana. L'amore per la natura scoperto nel parco d'Abruzzo grazie ai miei genitori. Andiamo a chiudere con quest'ultima pagina, intanto con il titolo d'apertura. Carcere di Sulmona, tensione e violenza. Agente aggredito da un ergastolano. La UIL denuncia l'episodio preso di mira un 51enne di Pescara. Il direttore Romice porta il caso in procura. E poi ancora l'autunno del lavoro, le vertenze all'Aquila, cassa integrazione per 16 operai ex Otefal. La misura scatterà lunedì per 13 settimane entro settembre. Attesi sviluppi per la vicenda dagli ex ricercatori Intex. Noi ci fermiamo, diamo spazio alla pubblicità, aprimo ancora le previsioni del tempo e poi rientreremo con le pagine del messaggero Abruzzo, della città e altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6, che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Ecco qui il nodo trasporti, autobus obsoleti, meno chilometri, scuole nel caos. Il PD accusa il governo abruzzese. Se solo talghi, niente rilancio, per i DEM sarebbe stato soppresso un milione di chilometri. C'è anche il rischio che l'azienda tua possa perdere l'affidamento del 65% dei servizi. In taglio medio, Morgante, la top manager in regione, Marsilio le assegna le infrastrutture. Poi ancora tensioni con l'UDC, scoccia verso appoggio esterno. L'ultimo caso è la designazione di D'Annuntis, di Forza Italia, a presidente della commissione statuto. Andiamo ora sulle pagine di Pescara. Dirigenti in fuga e licenziamenti. Bufera al Paolo VI. Tensione alle stelle nei centri sanitari della Curia Pescarese. Monsignor Valentinetti a zera. Il vertice assume le cariche. Esposti alla procura di un medico cacciato e gran rifiuto di Mancini e altri dirigenti. Faro dell'annunziatura su un colosso da 15 milioni. Poi ancora l'arcivescovo si affida al fisioterapista personale, ma i conti ne risentono e avanzano i privati pronti al salvataggio. E poi ancora il caso Spia, il giallo della RSA chiusa, fraternità magistrale, oggi vertice in consiglio regionale. Pettinari, basta silenzi, scatta l'operazione verità sui licenziamenti. L'appello al Papa da parte dei lavoratori. E poi diagnosi rapide, corsia preferenziale in ospedale per i tumori del polmone. Andiamo avanti di scarica al mercato, multa e bonifica. C'era anche un deposito illegale di pneumatici e rifiuti vari all'interno dell'ortofrutticolo di Cepagatti, ispezionato a maggio. Il pagamento di 6.500 euro dopo la rimozione del materiale chiude l'inchiesta avviata dal rapporto dei carabinieri forestali. Il reato ambientale contestato al responsabile della struttura risale almeno a otto anni fa. E poi ancora in taglio medio dalla bici all'auto elettrica, così la mobilità diventa eco. Da venerdì al Marina la seconda edizione di Ecomob, anche l'acrobata dei pedali per scoprire i vantaggi del green. E siamo in provincia di Pescara, campeggio, glam e nudisti. Ecco il turismo alternativo. Due iniziative lanciano Catignano nel giro delle vacanze di nicchia e il borgo risorge. La piccola rivoluzione avviata da Tom, l'australiano che ha lanciato il glamping. Tende e chalet con lusso e servizi degni di un resort, ma a conquistare gli ospiti sono le colazioni. Grazie a una speciale convenzione, la sorgente è l'unica struttura abruzzese in cui si pratica il naturismo. E poi ancora in taglio medio a Montesilvano, via Basilicata e via Mologa, cresce il fronte contro il 5G, uno dei comitati ricevuto dal sindaco. I timori delle mamme per l'esposizione dei più piccoli alle radiazioni. E ora siamo alle pagine dell'Aquila, chiesa di San Pietro ha coppito e vicina la rinascita definitiva. All'inizio del prossimo anno, alla fine dei lavori, sta per essere appaltato l'ultimo lotto di interventi. Mancano il rifacimento della pavimentazione, il restauro degli affreschi e le opere sulla sagrestia. L'edificio di culto è al centro di un quartiere particolarmente colpito dal sisma. E poi in taglio medio, scavi di Amiternum, il comune conferma i fondi. Il sindaco Biondi non è affatto sparito il capitolo di spesa già previsto per l'operazione. Proseguiamo. L'Aquila ringrazia promessi altri aiuti. Le otto delegazioni degli stati che hanno contribuito alla ricostruzione si sono sbilanciate. Collaboreremo ancora. L'ambasciatore francese ha dato la sua disponibilità per aiutare il rilancio dell'università. Da sempre vocazione della città. E poi ancora siamo in questo caso in Marsica. Orso sconfina. Temiamo per i bimbi. Il plantigrado si spinge fino alle abitazioni di Casalidaschi. E semina il panico tra i residenti. Non sarebbe il primo episodio. La vittima del blitz, Vincenzo De Angelis, mi ha mangiato tutto il pollame. La mia protesta sta pure cadendo nel vuoto. Il paese in rivolta si teme che il fatto possa ripetersi. Viviamo nella paura. Ora le pagine di Chieti. Santa Maria. Palazzi a rischio crollo. Stasera assemblea dei residenti. Segni di criticità strutturari sono comparsi su altri sei edifici. La situazione è da incubo. Il comune affida uno studio di vulnerabilità idrogeologica. Monitorati strade e viadotto. Nel quartiere c'è paura dopo lo sgombero di un edificio. E l'evacuazione di 70 famiglie. E poi di spalla festa del Teatro Italiano. Da oggi fino a domenica. All'attore per rotta il premio FITA. Domani invece ai Tempietti Romani presentazione di Navigare nell'arte. Andiamo avanti. Siamo alla cronaca. Stroncato un giro di droga. Quattro arresti. Nella rete padre e figlio. Nei guai anche un cancelliere per rivelazione del segreto d'ufficio. Sono undici gli indagati. Al telefono dicevano in giro circola solo monnezza. La nostra roba è a prezzi onesti e non fa male alla salute. Allora vediamo il servizio. Sono scattati altri quattro arresti nell'ambito dell'inchiesta che ad aprile scorso condusse i carabinieri della compagnia di Lanciano nella casa di riposo Villa Paola di Treglio. L'operazione antidroga è stata illustrata in conferenza stampa dal comandante Vincenzo Orlando. Le nuove ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e due domiciliari, riguardano padre e figlio lancianesi Roberto Polidori, 63 anni, e Antonio Luca Polidori, 26, Maurizio Petrillo, 50 anni, di Lanciano, e Anthony Bevilacqua, 27, di San Vito Chietino. L'indagine è durata nove mesi, iniziata a gennaio di quest'anno, si è conclusa a settembre. Undici sono in tutto gli indagati. Padre e figlio sono legati alle donne arrestate nel corso della prima operazione. Roberto Polidori è infatti il compagno di Carolina Barlafante, 63 anni, che venne arrestata insieme alla figlia Fiorella Scaglione, 44enne, entrambe di Lanciano, ad aprile scorso. Le due furono trovate con la droga all'interno della RSA, in cui lavoravano per le polizie ed altre attività connesse. C'è anche un particolare ancora oggetto di indagine. Nell'operazione è coinvolto anche un cancelliere del Tribunale di Lanciano, che avrebbe avvisato gli indagati delle attività investigative nei loro confronti. Sullo spaccio di droga si concentra l'attività dei militari della compagnia di Lanciano, commenta infine il comandante Orlando, sottolineando che in un anno sono stati sequestrati circa 11 chili di sostanze stupefacenti nell'area di competenza della compagnia. Massima attenzione nel sangroaventino, tra i paesi di Casoli e Altino, dove l'attività illecita legata allo spaccio di droga è spesso connessa ad altri reati, come furti e rapine, per reperire risorse utili all'acquisto dello stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina. Contrastare la fenomenologia di droga significa allo stesso tempo contrastare anche altri reati, che sono quelli che danno più fastidio, quindi furti e rapine, perché chi deve acquistare droga deve necessariamente avere del denaro e per avere del denaro deve necessariamente trovarlo, se non riesce a trovarlo con i mezzi illeciti è chiaro che lo fa illecitamente, quindi delinque o commette furti o commette rapine. Sempre sul Messaggero, pagina di Teramo, le sale operatorie fanno acqua, scatta l'emergenza all'ospedale, le infiltrazioni idriche sarebbero state provocate dal nubifragio del 13 di agosto. La stessa relazione dell'Asla ammette c'è stato il rischio di danni alle persone. Ancora problemi all'ospedale in attesa di avviare l'iter per la costruzione del nuovo policlinico. E poi di spalla, morto per la lite in piazza sotto inchiesta, un 17enne, la vittima in questione, ecco qui Calogero Sansone, che è morto in piazza Sciacca in Sicilia dopo aver avuto un diverbio con un ragazzo. E poi ancora in taglio basso, piazza Dante, il comune si riprende i parcheggi. E poi ancora insulta su Facebook la suocera, sai che mia moglie mi tradisce. Un'ultima pagina del Messaggero, prima di tornarci più tardi con lo sport. Vogliamo l'ospedale di primo livello, il presidente della commissione sanità e la nostra battaglia. Andremo in regione e se serve arriveremo anche al ministro. Arboretti non demorde, abbiamo utenti e infrastrutture, ma Paesani frena. A che titolo parla? Non sappiamo nulla. Questa è la voce appunto da Giulianova. Il medico è convinto che a Terramo basti una struttura di secondo livello e nosocomi di base. Adatri e Santomero. E poi ancora Mastrilli non ha segnalato la causa contro il comune. E' ineleggibile. Si complica il caso dell'ex segretario della Lega. Gli atti potrebbero essere inviati alla procura. Cambiamo ora la testata. Andiamo a vedere le pagine interne nel quotidiano La Città. Ecco qui siamo a pagina 5 con l'argomento che dava poi l'apertura in prima pagina. Ecco il progetto per l'ex Villeroe Boc. L'ha presentato il gruppo Gabrielli. Prevede appartamenti, spazi commerciali e opere pubbliche. L'intervento cambierà tutto nell'ex quartiere industriale cittadino della Gammarana. Previsti anche 60 appartamenti popolari fronte Tordino. Le opere pubbliche. Sottopasso ferroviario in via Marcozzi. Sistemazione della stazione ferroviaria. Rotatoria della Gammarana. E' rampa dell'8-0. Ecco appunto una immagine del progetto. Sotto due scatti di com'è attualmente lo stabile e il quartiere. Proseguiamo con l'intervista. Cognitti, Ruzzo sulla strada del risanamento. La presidente del Ruzzo parla degli sforzi per rimettere in sesto l'azienda. Non ora, giudicatemi fra tre anni. E' stata tranquilla, nessun problema di carenza idrica. Cinque bandiere blu lungo la costa. E' il nuovo sistema d'allarme del Gran Sasso che sta funzionando per la sicurezza dell'acqua. La posizione del sindaco di Teramo è prettamente politica e personale. Non ce la farò a convincerlo, dice sempre la presidente della Ruzzo Reti. Ruzzo affidabile, prosegue sempre la presidente, affidabile per le banche e i fornitori. Nella clientela permane qualche avversione fomentata dai politici. E poi ancora di spalla presto la Teramo Mare anche per l'Acquedotto. Un progetto da 33 milioni di euro per l'aduttrice Colurania Giulianova più Litoranea e Serbatoio a Mosciano. Avanti con pagina 8, Piazza Dante passerà da 106 a 50 stalli. Il sindaco illustra le scelte dell'amministrazione alle associazioni dei commercianti. Già preoccupate, vediamo il servizio del Tg6. Rendere Teramo più accogliente per residenti e più conveniente per i turisti rimetterebbe in moto un'economia cittadina che ha perso smalto in questi anni. È la mission del sindaco Gianguido D'Alberto e dei commercianti teramani che insieme hanno individuato alcuni importanti accorgimenti per rilanciare la città. Prima tra tutti il recupero pedonale di Piazza Dante, anche se parziale, ma indispensabile. Con i commercianti avete parlato di Piazza Dante. Ecco, come tornerà ad essere Piazza Dante? Ci siamo incontrati proprio per anticipare l'inizio di un percorso e definire insieme una strada che, come sapete, ho intrapreso fin dal giorno successivo all'insediamento su un tema a me molto caro perché è veramente una vicenda che deve essere risolta subito, una delle vicende più gravi che è stata lasciata dalla precedente amministrazione con un parcheggio a raso che è stato affidato, diciamo così, senza una scadenza con una proroga sire di E da 8 anni e di cui il Comune di Teramo, l'amministrazione comunale fino a ieri, cioè fino al mio insediamento, al nostro insediamento, non conosceva neppure quale vantaggio economico stesse dando al privato. Sulla base dei dati che verranno fuori da queste verifiche ovviamente faremo una proposta che necessita sicuramente di un'azione finalizzata non soltanto a conservare una quota di parcheggi sull'area perché abbiamo esigenze importanti relative ai parcheggi, su quella che è un punto nevralgico della città ma anche e soprattutto la sistemazione dell'arredo e del decoro di una piazza che è stata sventrata nel corso di questi anni e alla quale dobbiamo ripristinare, insomma ridare un decoro, il decoro che merita. Durante la riunione che il Sindaco d'Alberto ha avuto con i commercianti terramani è emersa forte la richiesta di rivedere il piano parcheggi, abbassando le tariffe, pubblicizzando quelli di San Francesco e San Gabriele con l'impegno di illuminarli maggiormente, soprattutto lungo i percorsi pedonali. I commercianti giustamente hanno posto il tema, il tema del piano della sosta che finalmente dopo tanti anni deve essere approvato e correttamente hanno chiesto in modo corrispondente ad una riduzione del numero di parcheggi, un potenziamento dei parcheggi esistenti, pensiamo ad esempio ai due megaparcheggi che sono sottutilizzati e abbiamo già avviato un dialogo con costruttori terramani in questo senso per potenziarne l'utilizzo e anche l'individuazione di altre aree in centro storico per attutire questa riduzione. Si è parlato ad esempio anche di un tema importante che è quello relativo al recupero della scuola Sabini con la stessa ubicazione che attualmente, su cui siamo già espressi nel corso delle settimane precedenti e su cui torneremo a parlare da qui a breve perché c'è un dialogo aperto con l'USR per l'utilizzo delle risorse con l'obiettivo di ripopolare il centro storico e creare i presupposti appunto per uno sviluppo complessivo del cuore della nostra città. Buoni i propositi dell'amministrazione comunale che ha anche garantito ai commercianti la costituzione di un ente per le manifestazioni e la riconsegna dell'antico giardino di Regina Margherita che tornerà ad essere fruibile per l'intera città. Sempre sulla città, ospedale nuovo, occasione da non perdere, il capogruppo regionale della Lega Pietro Quaresimale sostiene la scelta del project a Piano Daccio. Pagina 10, il comune prova a cambiare le corse dei bus, via Po, Melograno e Cimitero iniziate le valutazioni con la Staur ma servono 106 mila euro dalla regione messi da parte con le parco e Piano Daccio ancora una volta accantonate per esigenze di chilometraggio. Pagina 11, turismo settembre nero per la balneazione abruzzese, 33 sforamenti nell'analisi Arta sulle spiagge da inizio settembre, problemi ogni volta che piove, depurazione da potenziare lungo le aste dei fiumi e molte commissioni tra rete delle acque bianche e delle acque nere. Avanti ancora interrogato l'ex imam di Martinsicuro, il legale solo contestazioni fiscali con il terrorismo nulla a che fare. Per la DDA dell'Aquila i reati fiscali sarebbero serviti a finanziare il terrorismo del gruppo al-Nusra. Andiamo avanti a Roseto degli Abruzzi, quasi finiti i nuovi argini del Tordino, le nuove barriere dovrebbero scongiurare gli allagamenti alla foce. Le frazioni interessate sono le zone di Piano Tordino e Colonia Spiaggia più volte allagate a causa delle piene. E ora apriamo la parentesi dello sport attraverso pagina 21 della città. Due turni a Cianci, Salta, Cavese e Rende. Oggi Speranza risolve il suo contratto con il Diavolo, parla Cristini, c'è ancora da migliorare molto. Ieri Minelli è tornato in gruppo, il giocatore Scuola Fiorentina ha svolto la seduta con i compagni di squadra e si gioca una maglia da titolare con Magnaghi, Martignago e Birligea in vista della gara di domenica con la Cavese. E poi in taglio basso la pattinatori Bosica Martinsicuro sul tetto d'Italia, conclusa nel migliore dei modi a San Benedetto, una stagione agonistica ricca di soddisfazioni rapidamente con le testate nazionali sportive. Le prime pagine di Gazzetta Corriere è tutto sport, ecco qui la Gazzetta dello Sport, Inter a tre stelle, Conte il mister più pagato, Lukaku il bomber leader, Zhang nel governo dell'Eca. Il momento felice del club nerazzurro all'insegna degli uomini simbolo, tutti al top. E poi sotto la testata un festival fenomenale, Pellegrini, Buffon d'Amico, Tom Bavieri e Cairo che dice a Trento una piccola Olimpiade dal 10 al 13 ottobre, parata di campioni con il Milan degli Immortali e Conte. Grandi novità, box e Formula E, sempre sotto la testata, dentro l'ospedale di Schumi è ricoverato sotto falso nome, reparto blindato, terapie top secret. Di spalla, CR record, poker alla Lituania, Ronaldo è il re delle qualificazioni. Il Corriere dello Sport, le parole del nuovo proprietario della Fiorentina commisso, appello ultimato ma gli ultra, mai più cori sull'ISL, parole forti da New York, prima di Fiorentina, Juve. E poi sotto la testata le parole del presidente del Napoli, De Laurentiis, Icardi, Milik, la mia stella. Poi in basso leggiamo anche donne, tempo di Champions, Schumi, subito le staminali, Under meglio senza i Big, l'Under 21. E poi tutto sport, ecco il vero De Ligt, la Nazionale restituisce la Juve, un giocatore al top della forma, CR7, poker di gol, vale un altro record. E poi sotto la testata è un toro scatenato, Cairo conferma il rinnovo a Mazzari e prepara il prolungamento del contratto di Bonifazi. Torniamo sulle testate locali e andiamo sul centro con la partita giocata ieri dall'Under 21 a Casteldisangro, Manita Italia e Festa Azzurra al Patini. L'Under 21 parte bene con il Lussemburgo davanti ai 5.000 spettatori. Ken e Zagnolo non brillano, Tuminello entra e segna. Vediamo qui i voti, 6 e mezzo al Biancazzurro Tuminello e 7 al grande ex rincorso per tutta l'estate Riccardo Sottili che è rimasto alla Fiorentina. Sottili che ieri ha parlato dopo la gara. Se sono qui è grazie al Pescara l'ex Biancazzurro in gol, il Delfino mi ha lanciato e Gravina, il Presidente federale, applaude il pubblico. E ora si parla di Pescara nella pagina successiva. Cosenza è un campo tabù. 21 anni fa l'ultimo colpo esposito ai Gelsi, lì servono aggressività, agonismo e carattere per vincere nel 98 il pocherissimo in Calabria che costa la panchina al tecnico dei Silani Sonzogni. Il 24 settembre 1989, passo falso del Delfino, provoca l'esonero di Castagnar sostituito da Edi Reia. Il campionato riprenderà con una trasferta tradizionalmente insidiosa. L'anno scorso polemiche per la rete di Crecco e a sinistra ancora fiducia a Masciangelo. Circa la probabile formazione Serie C. Oggi il sì di Speranza al Pineto. L'ex capitano verso l'addio è pronto a scendere in D. In prova all'esterno Gomez attesa per il verdetto della FIFA sul Bonoris. In basso direttanti Vastese Palumbo, ore decisive. Chieti per Catalli, 15 giorni. E poi basket di A2, Roseto, battesimo al Palamaggetti. Presi Focu e Dizie. Supercoppa alle 20.30, debutto in casa con Monte Granaro dopo il K.O. a Caserta. Primo allenamento per i nuovi acquisti. Infine il calcio A5. Coppa e campionati cambiano i format. Nel giro di un anno i club dovranno trovare impienti al coperto dotati di fondo costituito in legno o PVC o in gomma. E ora le due pagine del messaggero, le due pagine di sport del messaggero prima di chiudere. Italia travolgente in rete Tuminello. Grande festa ieri per il debutto ufficiale. Castel di Sangro si è stretta agli azzurrini davanti al presidente Gravina. Cinque gol a Lussemburgo. Esulta anche il Pescarese. E poi sul fronte Pescara riaperta la campagna. Abbonamenti. Primavera subito con la corazzata Inter per la squadra di Le Grottaglie. Anticipo di lusso. Dopodomani al Poggio alle ore 14. E poi ancora Serie C. Teramo oggi l'addio. Speranza al Pineto. Sopraluogo FIFA al Bonolis per giocare nel nuovo campo la sfida con la Cavese. Il difensore Cristini sarà una gara complicata con una squadra di gran carattere. Di spalla Notaresco prende forza dopo l'ok a Campobasso. La vittoria netta. 3 a 1. Spazza via ogni dubbio sulla formazione. Specie dopo il brutto debutto in casa con il vasto Girardi. Lava stese vicinissima all'accordo con Palumbo. E poi per il rugby l'Aquila. Ultime speranze per mantenere la Serie A. Noi chiudiamo qui questa edizione odierna di Mattino 6 che ritroverete domani alle ore 8. vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente. Le tre edizioni principali del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia. Grazie a voi per la cortese. Attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.